Ciao a tutti ragazzi siamo i GameTrofit ed eccoci qui con un altro video su Outlast Con un ostacolo di una settimana Quindi non ci ricordiamo neanche dove eravamo Forse anche un po' di più Allora Qui è chiusa perché posso vederla Andiamo andiamo Sinistra Lo facciamo un po' più run C'è un bordello quindi E' chiuso Destra qui Ma non è che Aspetta che Usate la voce perché Sono un po' raffreddato Allora qui non ci siamo messi Ah ecco ci siamo Le due valvole Aspetta Ma si c'è Non si è aperte le valvole Eh appunto mi sa che bisogna accenderle No Non c'è l'acqua nell'impianto Quello è quello che devi prendere dopo Beh quello si Oh no Ah e poi qui che bisogna nascondersi Quindi va a destra Allora Dove siamo arrivati Dalla strettoia Ah va diritto per forza di qua perché l'hai chiusa Sì Qui non si può neanche saltare Apetta legge un po' perché magari c'è qualche insegna Vai a girare a sinistra Nel muro qui Ho sentito una Oh Ok Quindi ti rinasconde là come minimo Aspetta Fai tu un quarto d'ora per arrivare Davvero? A questo punto lo attiravo qui Ma si tanto sono appena iniziati C'era qui davanti un po' specchiato nel muso quanto puoi scommettere Ah qui è vero senza un dito E di quello che cammina così Oh non c'è più Stai superato Guarda un po' lì dove c'è il casino Non devi mai correre È lì Tu Apri la luce Apri la luce Apriamo le luci E accendi la porta Oh madonna Vabbè sento il buio non ci tira bene A parte così non lo vedrò anch'io Eh madonna Biscolino un po' Griscolino fino all'ultimo proprio Oh forse devo quasi che brilare in fondo alla stanza può darsi Si Il cane sta morendo fuori puttana Si sentirà sicuramente dopo nel video Stiamo brilando qualcosa qui Eh lì la batteria Tanto è rarico il bastardo No qua siamo senza luce Dove vado Dove c'erano le mosse di prima Ti dà dritto Ci sono due parole per la trovare Si Anche perché io sento queste Si questa musica Questa musica C'è qualcosa che brillano Dove? Lì batteria No E' come te la moglie No La luce per te Però allora ragioniamo Eh ma che cara Cioè non lo so Eh ma Guardi che In quanto è tranquillo Allora qui bisogna andare Prova lì È una strettoria eh Vedi che ora c'è qualcosa E tu non puoi passare Sai sfonda tutto Che vero Ma che Cioè ci saranno Bellino Artistico la cosa Ci doveva essere da qualche parte Eh più che altro fa in modo che l'olino ti faccia agire Chi è l'olino Ma che cazzo Paolo Hai portato dei paperelli No C'è un cadavere Non ti basta Guarda qua C'è le braccia Ma che professore Finché non La chiave Brava aspetta Non mi stavo pensando Questi qui Sono tutti fatti uguali O è il solito Ah beh io credo Siamo tutti fatti uguali Anche perché uno se lo sbaglio È morto Si Cioè quello che è rimasto No aspetta Si è morto Puglio era un tagliato la lingua Quindi questo non è desiguro Bellino sì Anche questo vedi Ma deve essere tutti uguali Sono tutti gemelli A quella che è pulita Ci sa come Questa virgolette pulite Guarda qua 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 Il tempo che ti fai così quello storico Ma che Oh eccola qui No no Cioè pensavo che c'era anche l'entrata Non si sa mai guarda con su Perché Una si è trovata Ma erano due Ma erano sicure che erano due Era che ci penso C'era scritto che Diceva le valvole O nella valvole Non la mutarti Non la mutarti Che poi è un manicomio dei depravati Hai sentito le ossa Ma non sai arrivati da qui Che siamo arrivati da qui Che batte E il problema è che Che quello dove sta Che ma Mi spiego che sia una Perché Non so più dove andare L'altro Se no bisogna già trovare quell'altro Sai Mi sa che bisogna andare dritto Invece Sì Valve Le valvole Valvole Oh E poi ora come cazzo Torniamo indietro Fa una cosa Vai Armadietto Veloce Che il bastardo si sente Che tempo Con calma Con calma ragazzo Io non mi ricordo D'essere petto da indietro Non si può salvare Si è perfetto Ti va a tenere un botto Non mi piace per niente Prende male Prende male A cui si Cioè Il non ricordarsi dove andare Non di qua sicuramente Oh ma guardati dietro Sai al buio è vicino c'è la musichetta lì però magari c'è lui via si si alza corri corri e che cava visto per forza fai il giro esci te al volo chiudili la porta non c'è porta veloce 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 corri corri di la alba via 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 da che nasconde hai dove si va? ma andiamo dai che ce la fai ma vieni vada andati comisi che andrà a destra che scende la valvola n answer oh 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 holy che c'è kur pustelli vuole vedere che fa quindi con la secca prima di più lo schizzo spaccato tutti ieri giù facciamo la cosa chi all'inizio è tirato giù non è un muro e mi riesce a dare un'idea roma aspetta come cazzo è cambiata da battere dietro devi andare là accendi e veloce nell'armadietto corri corri vai 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 è da qui si è da qui veloce veloce accendi e subito nell'armadietto no 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 non fa cazzate veloce vai salvataggio ma vieni ma fa se mi devo lavare anche anche non f*** che il merda arriva devi scappare non c'è perché dove si andava avanti eh non lo so adesso fa che porta aperto lui di qui non ci poteva passare quindi o se è qui ci deve essere come vai non so cazzo qui è un'altra cosa ah dove c'era? dove c'era lo lì? c'era ma ci sono ostacoli di 10 centimetri, salta lì però lì ci siamo già stati? no guarda dove siamo arrivati, non mi ricordo, so solo che da qualche parte c'era un posto che... qui, qui ma caccare ma non ho fatto che cosa trovo un po' tranquillo la cosa è andato via? ma perchè cazzo faccio ci aspettava qui dietro per massacrarci? c'è per venire c... bello io direi che con questo colpo di scena e con questo piccolo infarto che mi è appena venuto possiamo chiudere il video qui quindi lasciate un commento di piace soprattutto per questa parte finale e ci vediamo alla prossima volta